Bonus sociale, bonus idrico integrativo per circa 11.000 famiglie agrigentine. E' questa la novità contenuta nella delibera del Consiglio Direttivo dell'Assemblea Territoriale Idrica, presieduta da Domenico Guelli, sull'approvazione del metodo tariffario idrico che, oltre ai bonus, limita l'incremento delle tariffe idriche al 6% rispetto alle vigenti. Un ottimo risultato, secondo Lati, a fronte del triplicato costo delle energie elettriche e dell'inflazione ormai stabile sul 10%, che ha trovato d'accordo l'intero Consiglio dell'Assemblea Territoriale Idrica, composto dal Vicepresidente Margherita Larocca Ruvole e dai consiglieri Franco Miciche, Vincenzo Corbo, Stefano Castellino, Milco Cinà e Fabio Termine. Non solo, con l'approvazione della tariffa, AICA potrà richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali l'anticipazione finanziaria pari al 35% dell'intero costo dell'energia elettrica 2022, rappresentando una vera iniezione di liquidità vitale sia per il gestore sia per l'efficientamento del servizio. In tale contesto è stato introdotto il bonus idrico integrativo che si aggiunge a quello nazionale in considerazione della situazione economica che sta causando un significativo incremento di prezzi e tariffe che contribuiscono ad aumentare il costo della vita più pesante per le famiglie in condizioni di disagio economico, famiglie alle quali Lati ha deciso di tendere la mano, riconoscendo l'azzeramento in bolletta delle tre componenti di quote fisse. Sul territorio provinciale sono circa 11.000 le famiglie che hanno i requisiti per beneficiare del bonus idrico nazionale al quale si affianca il bonus idrico integrativo che dunque prevede la riduzione di circa 80 euro rispetto al totale della spesa annua. Si tratta, afferma il Presidente Gueli, di una grande attenzione che i sindaci di Ati hanno voluto rivolgere a chi, versando in condizioni di particolare disagio, necessita di aiuto e sostegno. L'agevolazione integrativa, oltre ad essere il primo caso in Sicilia, sarà immediatamente applicata non appena si sarà sbloccato nell'agrigentino il bonus nazionale che dopo quasi 18 mesi dalla previsione solo di recente ha visto le prime applicazioni nazionali dopo che sono stati finalmente risolti i numerosi problemi tecnico-giuridici e gli approfondimenti su aspetti legati alla privacy riscontrati da Arera che nelle ultime settimane sono stati affrontati e risolti dagli uffici dell'azienda consortile. Grazie a tutti.